potrebbe recuperarli tutti ma potrebbe anche non recuperarne nessuno Andrea Sottilla ha messo nel mirino la Vigor Lamezia gara dalla quale deve passare il riscatto della Paganese dopo l'amarezza del derby ma soprattutto dopo i guai giudiziari che l'hanno solamente sfiorata con l'arresto del presidente Trapani è proprio che in questi casi che negli anni addietro gli azzurro stellati hanno dimostrato la loro tempra e sono chiamati a farlo anche adesso potrebbe recuperarli tutti ma anche nessuno si diceva Vinci e Deli infatti continuano ad allenarsi a parte soprattutto un forfait del primo sarebbe pesante visto che in difesa mancherà l'unico irrecuperabile ossia Bocchetti che sconta il secondo turno di squalifica quindi Sottilla si ritroverà costretto a schierare di nuovo Tartaglia a destra Schiavino a centro con Moracci, Schiavino autore dell'assist regalo a Kalil nel derby contro la Salernitana e poi Armenisi a sinistra oltre alla difesa i cui errori vengono sistematicamente puniti e che è rimasta in battuta con Sottilla soltanto nelle vittorie con Ischia e Savoia è chiamato a riscattarsi anche l'attaccante Giuseppe Caccavallo dopo l'infortunio infatti l'ex Gubbio ha giocato una partita e mezza non brillando assolutamente dunque riscatto per tutti contro una squadra in salute ma che evoca dolci ricordi dalla Mezzia infatti la Paganese ripartì andandosi a conquistare la finale playoff nel 2012 e la conseguente promozione in prima divisione grazie! 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 grazie!